Ben ritrovati, non vi dico quanti video penso di registrare oggi perché a quanto pare me la tiro da sola, ogni volta che dico 2, 3, 4 poi succede qualcosa e non riesco a portare a termine, mi prefiggo, di conseguenza oggi inizio con questo video e poi vedremo cosa accadrà. Oggi vi voglio parlare di un libro che non era assolutamente nella lista delle mie letture ma che ho letto tutto d'un fiato in seguito alla visione di un bellissimo filmato dove si ricostruiva questa vicenda, filmato visto su un canale di Youtube che se amate i cold case, i casi misteriosi, quant'altro, vi consiglio caldamente. Il canale di cui poi vi linkerò la home nell'info box si chiama Lo strano canale, Gisella, la sua creatrice, è una persona che non ho parole per descrivere, meravigliosa, stupenda, professionale, una vita, una capacità di ricostruire ogni caso fino ai minimi dettagli e una voce che narra altamente rilassante, non ci mette pathos, non ci mette quell'ansia che potrebbe far agitare l'ascoltatore, è sempre pacata, sempre chiara e vi fa entrare lentamente e menesorabilmente nei meccanismi di questi casi a volte veramente molto crudi. Da questa vicenda giudiziaria di cui vi parlerò tra poco, Emmanuel Carrère, scrittore e regista francese, decise di trarne un libro, di conseguenza contattò con una lettera il personaggio centrale di questa storia, però non ebbe risposta. La cosa finì lì, lui accantonò il progetto, ma poi dopo due anni ricevete finalmente la risposta, sì va bene, incontriamoci, vediamo la cosa. E Emmanuel Carrère seguì addirittura tutto il dibattimento giudiziario che gravitò attorno a questa vicenda. Il libro che ne scaturì fu l'avversario di Emmanuel Carrère, dopo vi darò anche tutte le informazioni del caso. La vicenda narra di un caso giudiziario che sconvolse la Francia. Nel 1998, la mattina dell'8-9 gennaio, adesso vi dico esattamente, no scusate, nel 93, il 9 gennaio del 93, questo Jean-Claude Romain, questo è il nome della protagonista della vicenda. Dopo aver ucciso la moglie, i figli, i genitori e il loro cane, tenta una specie di suicidio ingerendo però un tubetto di barbiturici scaduti da 10 anni, appicca l'incendio della propria casa e guarda caso lo fa pochi minuti prima che passino gli operatori ecologici che abitualmente, tutti i giorni, passano sotto la sua casa alle 4 del mattino. Quindi lui alle 3 e mezza circa inizia a mettere in piedi questa scena, ingoia questi barbiturici scaduti da tempo, va nel solaio della casa, comincia a versare benzina in giro, accende anche dei candelotti fumogeni per far vedere ancora di più la cosa e da fuoco. Lui viene avvolto anche dal fumo, riporterà anche una leggera intossicazione da fumo, riporterà anche qualche ustione, ma alle 4 appunto i netturbini, vedendo le fiamme alzarsi dalla casa, chiamano immediatamente i pompieri che arrivano. I pompieri arrivando iniziano a darsi da fare, però lui temendo per la sua incolumità, con le ultime forze rimaste gli spalanca di botto una finestra per far entrare un po' d'aria e il rumore attira alla curiosità dei pompieri che si dirigono immediatamente verso il punto da cui si è sentito provenire il rumore e rompono nella stanza dove trovano appunto lui ancora in vita il cadavere della moglie nel letto e i due bambini nei loro lettini. Mandati poi ad avvertire della disgrazia, perché al momento si pensa una disgrazia, i genitori di Jean-Claude Romand si scoprirà con orrore che anche loro sono stati uccisi, insieme al loro cane, a colpi di fucile, come i due bambini. La moglie invece è stata uccisa a colpi di arma contundente, si scoprirà poi essere un mattarello da cucina, acquistato giorni prima sempre da Romand e da lui, una volta utilizzato per ammazzare la moglie, lavato e riposto in un cassetto della cucina. Questa è proprio una cosa folle. Ma perché tutto questo? Ebbene, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Jean-Claude Romand, che vi invito a scoprire nella sua interezza di persona leggendo il libro, a un certo punto della sua carriera universitaria, arrivato alla fine del secondo anno di medicina presso l'Università di Lione, non supera l'esame da ammissione al terzo anno e invece che ripresentarsi alla sessione di settembre per ripetere l'esame e poter quindi proseguire la sua carriera universitaria, molla il colpo. Per altri dieci anni, grazie anche alla farraginosità burocratica dell'Ateneo lionese, che continua a accettare la sua assurda escrizione alla facoltà di medicina di Lione, Romand manterrà questo suo status di studente universitario e in realtà smetterà di studiare. Smetterà di studiare a livello ufficiale, si badi bene, perché la follia di quest'uomo è tale, per cui lui continuerà comunque a frequentare le lezioni. Frequenterà le lezioni, sarà molto diligente nel prendere gli appunti a un livello tale da essere richiesto anche come aiutante per alcuni studenti, degli studenti chiederanno proprio a lui gli appunti, perché lui li prende in maniera chiara, perfetta, quindi è anche d'aiuto ai compagni di studio. Come se non bastasse, quando arrivano i giorni degli esami, lui furbescamente si fa sempre vedere dagli altri, nell'atrio, a gironzolare attorno alle aule delle sessioni di esame e in caso di confronto con compagni di corso su dove stia esercitando i vari periodi di internato ospedaliero, riesce sempre a far dire all'interlocutore, per primo, dove sia lui, per replicare, ah no, io sono in un altro ospedale. Quindi riesce per tutti questi anni a coprire con molta forbizia e con anche molta fortuna questa sua appunto millentata carriera universitaria, che a un certo punto, come logica delle cose, dovrebbe portare al conseguimento di una laurea in medicina, che lui dice ai genitori di avere conseguito, però a questo punto si pone il problema, dove lavorare, sì perché in un ospedale non ce la fai mica se non hai una laurea, aprirsi uno studio privato, men che meno, troppi controlli, ed ecco che è il colpo di genio. Sono stato assunto all'OMS di Ginevra, sì perché la località in cui Jean-Claude Romain nasce e risiede, si sposterà in qualche cittadina vicina, ma sono sempre abbastanza prossime l'una alle altre, sono in una zona sul confine franco-svizzero. La distanza tra la casa dove risiede e Ginevra è veramente di pochi chilometri, tant'è che moltissimi ginevrini abitano nelle zone in cui vive Jean-Claude Romain, considerando questo territorio francese come una specie di interland un po' esteso della città stessa di Ginevra. Jean-Claude nel frattempo ha anche sposato una sua lontana cugina, Florence, che all'inizio non era per nulla interessata a lui, ma anche qui altro colpo di genio. Quando a un certo punto della sua carriera universitaria, alla fine del secondo anno, Romain, non riuscendo a passare questo esame, si chiude in casa, un appartamento che i genitori gli hanno acquistato a Lione per potergli permettere di studiare con agio e comodità. Non si fa più vedere dagli amici. Ecco che un suo compagno di università, un amico da sempre, e che rimarrà suo amico anche dopo il conseguimento della cosiddetta laurea, Luc, lo andrà a cercare. Gli dirà ma cosa ti succede, ma perché non ti si vede in giro, e lui invece di confessare il fallimento del suo test di esame per la missione al terzo anno, di colpo dirà, ehi ma sono malato, sono malato, ho il morbo di Hodkins, che è una forma tumorale delle vie linfatiche. Ovvio che la cosa sconcerti l'amico, e lui dice no no, ma tranquillo, per ora è tutto sotto controllo, vedrai che con le cure sto facendo anche delle chemioterapie, peraltro molto particolari, perché l'unica terapia chemioterapica che non dà effetti collaterali, si parla degli anni 90, quindi ancora le chemie erano di quelle pesanti, che facevano perdere i capelli, dimagrire, causare forti, violente crisi di vomito, bene, lui non ha alcuno di questi sintomi, l'unico sintomo che ha lui è un po' di depressione, di abulia, di voglia di rimanere isolato, e fa specie che Luke, studente di medicina che poi si lavorerà davvero in medicina, in tutti questi anni non abbia sentito suonare un campanello d'allarme, per queste strane terapie alle quali si sottoponeva l'amico, questa mancanza di effetti collaterali e tutto il resto, ma si sa, molto spesso la mente ci gioca dei brutti scherzi, non vogliamo vedere la realtà che abbiamo davanti agli occhi, forse perché scatta un meccanismo che ce lo impedisce. Sta di fatto che il nostro Jean-Claude dice a Luke, mi raccomando, non dire niente a Florence, e lui risponde, scusa non posso, Florence è amica tua quanto amica mia, se venisse a sapere in seguito che io ero a conoscenza della tua malattia e che gliel'avevo taciuta, non me lo perdonerebbe mai, e siccome io tengo a entrambi, con un giro di parole, le farò capire che non stai proprio bene. Ed ecco che Florence, una volta che apprende di questo tumore che affliggerebbe il povero Jean-Claude, ha in sé questo moto da infermierina, da crocerossina, alla io ti salverò, e si innamora e finisce per sposare questo suo cugino alla lontana, che fino a poco tempo prima, parlandone con le amiche, definiva una persona che assolutamente no, non potrei nemmeno pensare di avere vicino, perché sempre così sudaticcio, mi disturba proprio anche fisicamente, e poi all'improvviso diventa un uomo così interessante da sposarlo e da farci anche due figli, ma vabbè, anche qui altro mistero. Ebbene, abbiamo detto appunto che si esposa a due figli e millanta questo suo essere stato assunto all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità con sede a Ginevra, e di far parte di un'equipe di medici che stanno facendo ricerca su medicinali per contrastare l'Alzheimer. Lui in realtà non lavora, non ha mai lavorato un giorno in vita sua quest'uomo, come fa a mantenere la casa, la moglie, i figli? Sì perché la moglie si è laureato in farmacia, però non lavora, lavoricchia, fa qualche sostituzione stagionale nelle farmacie dei paesi limitrofi, fa qualche sostituzione di maternità e poco più. Ebbene, lui innanzitutto attinge a piene mani al contocorrente dei genitori che è anche intestato a lui, e quindi sostiene che se è intestato anche a me, vuol dire che quel denaro è anche mio. Noi non si fa il ragionamento, diventa mio o almeno una parte di esso potrei definire la mia, qualora ne avessi versato del denaro. No, lui non ha mai versato un franco, però si sente in diritto, in quanto confirmatario del contocorrente è di prelevare, 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 ma non basta, non basta, ci sono una moglie, due figli, il trasferimento in una casa più grande, costi più elevati, un tenore di vita di un certo livello. Allora, Altra ha trovato geniale, siccome lui è un medico, membro dell'OMS di Ginevra, fa circolare la voce che ai dipendenti dell'OMS in Svizzera le banche concedano sul conto nominale dell'impiegato dell'OMS ovviamente, una rendita sul capitale versato del 18% annuo, quindi sembra l'investimento del secolo. Ecco che subito molti si affrettano a dargli denaro da versare su questo conto per farlo fruttare. I primi saranno i suoceri, i genitori appunto di Florence, a cui seguiranno i suoi genitori, amici e lui versa, versa questo denaro, ma non su un conto per un impiegato dell'OMS, ma su due conti suoi personali, ai quali attinge a piene mani per comprare auto di lusso, per condurre la bella vita e per mantenere la famiglia. La cosa va avanti per alcuni anni. Lui si fa anche un amante che vive a Parigi, alla quale fa regali pazzeschi, che raggiunge in aereo a Parigi per portare al ristorante, non sono ristoranti, brasserie qualunque, sono ristoranti stellati. A questa donna regalerà anche un anello con uno smeraldo e dei brillanti, quindi sono spese non da poco, ma alla moglie a quanto pare non butta neanche un occhio sui conti correnti del marito. Famo a fidasse, ma anche no. Lei non si chiede mai alcunché. A lei basta sapere che il marito gode di questa posizione di prestigio all'OMS. Lei non ha mai avuto il numero di telefono dell'ufficio del marito. Lui ha un cerca persone e a lei ha dato il numero di questo cerca persone, se hai bisogno, chiama questo numero. E io mi domando in tutti questi anni come sia stato possibile che non sia mai capitata una volta che lei, i suoi genitori, i suoi conoscenti, le persone che comunque lo conoscevano e sapevano che lavorava all'OMS, non abbiano mai avuto un'emergenza o il bisogno di contattarlo in maniera urgente e quindi scoprire in un battibaleno che dell'OMS lui non ne faceva parte. Anzi, all'OMS lui era un perfetto sconosciuto. Arriva il momento in cui il castello di carte creato da Jean-Claude comincia a crollare. Il suocero gli comincia a chiedere indietro del denaro perché ha deciso di cambiare l'auto. Lui dice che sì, lo raggiungerà da lì a qualche giorno con le carte da firmare, ma stranamente una volta arrivato a casa del suocero, da quella casa partirà una chiamata per un'ambulanza perché il suocero è caduto dalle scale, ha battuto violentamente il capo e ha avuto una trauma cerebrale di tale entità che muore di lì a poco senza aver ripreso conoscenza. Romain dirà sempre che lui non l'ha ammazzato, assolutamente. È stata veramente una disgrazia, ma sembra veramente una cosa un po' poco plausibile. Il discorso ridare il denaro viene accantonato. Anzi, la suocera, rimasta vedova, affida proprio a Jean-Claude la vendita della casa dove viveva col marito e la somma ricavata, farla investire anche quella in questo conto. Cioè, proprio la gente così viveva con le fette di prosciutto sugli occhi, a quanto pare. O quest'uomo, dotato di grande fascinazione, riusciva a, come si suol dire, a intortare tutti. Vero è che, però, le cose a lungo andare alla fine saltano fuori. E per un insieme di vicende che scoprirete, appunto, se leggerete questo libro, alla fine Jean-Claude si troverà a con le spalle al muro. I soldi stanno finendo, ha contratto debiti praticamente con tutti, parenti, amici, conoscenti, non sa più dove attingere denaro e arriva al momento della resa dei conti. Pare che abbia avuto una vivace discussione con la moglie che finalmente sia svegliata dal suo incantamento e chiede ragione di alcune cose. Lui la colpisce violentemente al capo. Lei muore. La stende sul letto, si corica di fianco e dorme. La mattina dopo si alza. I due bambini sono già in salotto. dice loro di non disturbare la mamma che sta riposando e poi, con una scusa, uno alla volta, li porterà nelle loro camere, li farà stendere sul lettino, li coprirà con un cuscino e esploderà su di loro colpi di fucile. Quindi si preparerà, uscirà, andrà a comprare il giornale e farà colazione. La vita tranquilla, no? C'ho solo tre morti in casa. Il giorno dopo andrà dai genitori, pranzerà con loro e alla fine del pranzo, sempre con una scusa, farà salire il padre nella soffitta, nel piano di sopra comunque, e lo ucciderà sempre con la carabina. Poi tornerà in salotto, farà lo stesso con la madre e, visto che era rimasto solo il cane, e beh, poverino, lo vogliamo lasciare solo? Ammazziamo pure il cane. Pulirà il fucile, lo riporrà nella rastreliera e tornerà a casa, come se nulla fosse. Arrivata sera, aspetta che arrivi l'alba e decide quindi di completare il suo piano. Anzi, scusate, ho dimenticato un passaggio. Andrà anche a Parigi, in questo lasso di tempo, dall'amante che gli ha chiesto indietro i 900.000 franchi che gli ha fatto investire sul suo conto corrente. Le servono, le servono urgentemente, quindi dati una mossa, eh, Jean Claude. Va bene, cara, però adesso andiamo a cena. Finge un guasto all'auto, si ferma e tenta di strangolarla. Non riuscendoci, eh, dice che questo è stato un attimo di follia causato dalla malattia che lo affinge. La donna è molto terrorizzata, ritorna a casa e la cosa finisce lì, per fortuna sua. Quindi lei la scampa. Eh, appunto, massacra tutta la famiglia e sempre sapendo che i spazzini passano alle quattro, quando si fanno le tre e mezza circa, fa tutta la messa in scena. Prende dei barbiturici scaduti da dieci anni. Si noti bene. Aveva comperato dei barbiturici alcuni giorni prima da un amico farmacista, aducendo la scusa di dover fare delle ricerche, sempre per conto dell'OMS, su questi farmaci. Il farmacista non viene sospetto che, come lavori all'OMS, puoi avere a disposizione tutti i farmaci del mondo e li viene a comprare in farmacia. No. Anche questo qui è un altro che, secondo me, si sono tutti. Quello gruppo di amici si deve essere laureato studiando veramente all'università del mulino bianco, perché, non so, uno non si accorge che i sintomi del male non si presentano e che le chemio stranamente non danno effetti collaterali. Un altro che è farmacista e si sente chiedere da uno dell'OMS dei medicinali che potrebbe tranquillamente ritrovare nei laboratori. Però, a quanto pare, per tutti questi è tutto regolare. Lui acquista appunto questi barbiturici, che però stranamente non ricorda più dove ha messo, ma guarda, però ha un tubetto di barbiturici, mi sembra nembutalo o qualcosa del genere, che giacciono da oltre dieci anni in fondo allo scaffale dei farmaci di casa. Stranamente, per un medico non si pone il problema di controllare ogni tanto nella cassetta dei farmaci quali siano ancora buoni, quali siano scaduti e gettare questi ultimi. No, eh. La moglie nemmeno laureata in farmacia, nemmeno. Tutti così, tutti così. Va bene. Prende questi barbiturici scaduti da dieci anni e quindi hanno un principio attivo pressoché azzerato. Si, lo imbambiscono un po', ma non tanto da non permettergli di inscenare tutta la macabra messa in scena, appunto. Benzina versata nel sottotetto, fumogeni a piccare le fiamme, aspettare giù nella camera da letto, sentire i pompieri, vedere che questi tardi hanno spalancare la finestra per dire, oh ragazzi, io sono qui. E insomma, questa è la vicenda. Si scoprirà poi che bastava fare due telefonate in croce all'OMS e scoprire che del dottor Jean-Claude Roman nessuno aveva mai sentito parlare, verificare all'ordine dei medici e scoprire che non esisteva alcun dottor Jean-Claude Roman iscritto all'albo dei medici, controllare l'università e scoprire che non si era mai laureato uno studente in medicina a nome Jean-Claude Roman. Cose semplicissime, ma a quanto pare che nessuno pensò bene di fare. L'uomo viene processato e Emanuele Carrera segue tutto il processo. Come è andato a finire il processo? Ve lo dico subito. È stato condannato, condannato a, mi sembra all'ergastolo? No. È stato condannato, sì, all'ergastolo, ma dopo 26 anni alla Corte d'Appello di Bourges hanno concesso la libertà vigilata Jean-Claude Roman che vive al di fuori del carcere dal 2019 con l'obbligo per due anni del braccialetto elettronico, poi diciamo della giustizia italiana. Guardate che anche all'estero non è che navighino in acque migliori delle nostre. In un caso o nell'altro Emanuele Carrera ricostruisce tutta questa vicenda facendo delle debite riflessioni. Jean-Claude Roman che secondo gli psichiatri è affetto da una sindrome ben definita, scusate ma io mi sono segnata tutte queste cose, è affetto, così hanno detto da una psicosi, ecco, pseudologia fantastica conosciuta più volgarmente come sindrome di Pinocchio. In un caso o nell'altro costui ha massacrato 5 persone e un cane e si è fatto 26 anni di carcere. Ha truffato moltissime persone. Ho detto 5 persone perché lui continua a proclamarsi innocente per quanto concerne la morte del suocero, quindi non è da noi dire è stato lui o no. A quanto pare è andato bene dire che non era stato lui. Però io sono propensa pensare che anche il suocero se è caduto dalle scale una spintarella qualcuno gli ha da aver dato, però comunque ha ucciso delle persone e in un certo qual modo l'ha fatta franca, signori, perché comunque è uscito dal carcere e adesso fa parte di quelle solite associazioni per aiutare i carcerati e cose di questo genere. Ci sono due bambini soprattutto che sono stati uccisi, due bambini di 7 e 5 anni se non ricordo male, due giovanissime vite stroncate brutalmente dall'uomo che era anche il loro padre. Qual è la conclusione di Emmanuel Carrera? Che a un certo punto questo Jean-Claude Romain, la banalità del male come lui la definisce, è come se avesse incontrato l'avversario, ossia il demonio e il demonio fosse entrato in lui, guardate non sta dicendo che è una possessione demoniaca, si va di bene, ma è un confronto di una psiche contro il male che ha prevalso. Il male è diventato parte della sua vita, ma non è il male per il piacere di fare del male, ma utilizzare tutte le armi possibili fino a quelle estreme dell'omicidio per difendere questo castello immaginifico che si era venuto a costruire attorno alla sua persona. Un uomo che se soltanto avesse avuto gli attributi e per ammettere quei genitori di non aver superato l'esame di ammissione al terzo anno, se avesse avuto l'umiltà di arricchinarsi sui libri e ripresentarsi alla sessione di settembre, molto probabilmente visto che non era uno stupido, avrebbe passato l'esame, avrebbe continuato la sua carriera universitaria, si sarebbe veramente laureato in medicina e avrebbe avuto un'altra vita. E invece no, alla prima difficoltà che la vita gli ha messo davanti, ha preferito rinchiudersi in un circolo vizioso di menzogne che sono aumentate sempre di più come una spirale soffocante perché menzogna, chiama menzogna, non si può dopo una menzogna ritornare alla verità. Uno perché non si è più credibili, perché bisognerebbe ammettere la menzogna e secondo perché bisogna avere la spina dorsale, perché si può anche mentire, io non dico di no, però bisogna avere poi il coraggio di ammetterlo e di dire ho raccontato una storia, chiedo scusa, faccio ammenda e ricominciare sapendo che gli inizi saranno difficilissimi perché le persone tenderanno a caldo a non prestarti più fede, però sarà soltanto conducendo una vita retta irrepreensibili che permetterai a queste persone di ricredersi sulla tua veridicità. Jean-Claude Romain ha scelto invece la via della menzogna che chiama menzogna, è anche vero, è questo mio commento, che è stato aiutato nel mantenimento per così tanti anni di questo castello di bugie, da un entourage di amici e familiari che non si capisce, o accercati dalla personalità del Romain, che però non è saltata fuori perché tutti, anche gli amici, conoscenti, l'hanno sempre definito un uomo schivo, riservato di poche parole, quindi non era un affabulatore, non era neanche un uomo dotato di fascino estetico, anzi lo trovavano tutti abbastanza ributtante, un po' schifiltoso da frequentare perché aveva questa sudorazione continua, avrà avuto le mani tipo pesce morto, no? Che orrore! E tutti lo schifavano, però a un certo punto, chissà come, chissà perché, riesce a sposarsi, fare due figli e farsi un'amante, e soprattutto riesce a farsi affidare centinaia di migliaia di franchi, da familiari, conoscenti, amici, tutti però così, ingenui, da non richiedere mai nemmeno una ricevuta, un pezzo di carta che comprovasse la consegna di questo denaro, cioè io ti do delle somme da investire, però tu firmami un pezzo di carta dove è attestato che io, Mario Rossi, consegno a te, Mario Bianchi, centomila franchi, perché se ti scappano i piedi, io come lo dico che ti ho lasciato in banca centomila franchi dei miei, è almeno un pezzo di carta, a quanto pare tutta sta gente non ha mai chiesto pezze d'appoggio, sì, secondo me c'è una presenza diabolica, quella del diavolo che veramente ci ha messo la coda, ma ce l'ha messa ben lunga, perché ha praticamente lobotomizzato tutti quelli che circondavano Jean-Claude Romano e ha permesso a questo individuo di fare quello che ha fatto, fosse stato solo la truffa del denaro signore, vabbè ti brucia il risparmio di una vita, il sacrificio, vabbè ma c'è sempre la vita, ma questo non si è accontentato di fregare i soldi al prossimo, si è anche portato via la vita dei suoi genitori, della moglie, dei due figli, forse anche del suocero, del cane, così, pur di non dover ammettere quello che poi ha dovuto comunque ammettere, sono un millantatore, ho raccontato balle negli ultimi 10, 12, 15 anni dalla mia vita, chi può dirlo? Che storia orribile, orribilmente triste, questo è il sunto di questa vicenda, il libro che lo tratta in maniera, per me, veramente molto, molto sensibile, è l'avversario di Emmanuel Carrere, casa editrice a Delphi, sono 103 pagine, quindi non è nemmeno lungo, veramente, io l'ho letto in un'ora, una cosa molto interessante comunque, l'edizione cartacea sta a 17 euro, l'edizione elettronica a 9 euro e 99, se volete sentire la vicenda raccontata nei minimi dettagli, e non con questi avanti e indietro che ho fatto io, perché, per assumere una storia così complessa, per me fate cose, vi consiglio di andare sull'altro canale, no scusate, lo strano canale, e seguire Gisella che lo racconta magistralmente, così come racconta magistralmente tanti altri casi di cronaca, con questo per il momento è tutto, vi saluto, un bacione, e il mio arrivederci a presto, ciao!